C'è un po' qui non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile traccia grazie Grazie. 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 No, no, no. No, 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 no. Curz e' zloci. Curz e' zloci. Hoi, ja. Curz. Hai, nu puie. Curz. 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 non è vero Un erro, non è vero. Grazie a tutti. Grazie. 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 Siamo iniziando a cercare. C'è un po' che vuole. Siamo iniziando a cercare. No, 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 no. Grazie. 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 tu pitomacchio da chiropraficare non è l'importo di riempire io avevo che mi era che mi era fatto ma cosa che mi era fatto per te due e adesso andiamo che ti dà una fizzicola terapia nella ultrazvucione e la sua e e vediamo a la mia, no, non è proprio il centro. Non sono più lato nel centro. È un po' bolo, non è un po' grado. 6 mesi metri. puoi, 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 puoi. puoi, puoi. Puoi, puoi, puoi. puoi, puoi, puoi. puoi, puoi, puoi. Grazie a tutti. Grazie. 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 3 pezzi Alla prossima. No, no, no ooooh 60 seconda ok 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 a non è stato l'arco da se siree da te vieni 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 sono i popoli su stranetti sono i svegliati ad ora non vengono sono i rischiati in vieni vieni Grazie. 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 come? no non come? no no vai non che non non Alla prossima 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 Alla prossima